tirati lontano perché esce tutto fuori ci sono tanti 1 2 3 1 2 3 4 5 6 quanto ci sono? 7? 1 2 3 4 5 6 7 7 piccolini ma quanto sono belli no no vengo no buttilo cibo pane che l'hai? si buttilo buttilo se non ho dato buttalo e mi sa che è pieno eh non vuole mangiare c'è un altro stai tentando la via stai tentando la via e che belli guarda 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 ma è un buo di pane no piccolini perché non vedono che c'è un po' di mangiare c'è ce lo vedono lo vedono vedi che mangiano abdullah tu stai tento eh stai lontano abdullah no monta ah dai stai lontano